Quando ero piccolina, mi piaceva guardare affascinata mia madre mentre si faceva le trecce. Ha sempre provato a far provare anche me, ma io ero troppo spaventata. Cioè, non ero spaventata dall'intrecciare per sé. È solo che non volevo rovinare qualcosa che credevo fosse magico. È divertente, perché soltanto quando compì i 13-14 anni, capì che i suoi capelli non le si intrecciavano così improvvisamente sulla punta delle dita. Anche adesso, mi piace l'idea dei suoi capelli che reagiscono al suo tocco, il mio tocco. Quando Vaila era più piccolina mi piaceva condividere con lei un po' di quella magia che avevo con mia mamma. Lei non era spaventata, anzi, ha anche imparato più velocemente di me. E credo che sia questo intrecciare e sigillare che l'ha fatta incuriosire del raccontare storie nel filmare. Adesso non ho molto tempo per questo. Però quando sono stressata mi piace intrecciare parte dei miei capelli. Mi ricorda dei tempi più semplici. Mi ricorda dei tempi più semplici. Forse non felici. Ma neanche tristi, eh. Solo più semplici. Quando la vita per me era una bellissima donna che insegnava la magia a sua figlia. Magia che io ho insegnato. Insegno. Alla mia. Magia che io ho insegnava la magia a sua figlia. Magia che io ho insegnava la magia a sua figlia. Magia che io ho insegnava la magia a sua figlia. Magia che io ho insegnava la magia a sua figlia. Magia che io ho insegnava la magia a sua figlia. Magia che io ho insegnava la magia a sua figlia. Magia che io ho insegnava la magia a sua figlia. Grazie a tutti